Quale location migliore dell'armadio stesso per iniziare un video haul? Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi sono qui per filmare un video haul mega haul per le mie Reborn, a grande richiesta direi, perché è una tipologia di video che non porto da tempo, ma me l'avete richiesta tantissimo, anche nel box delle domande su Instagram che vi ho lasciato qualche settimana fa. Guardate Matilde com'è carina con il suo cerchietto. Smart invece è qui alla scrivania e sta disegnando sulla sua tavoletta magica che si cancella con un pulsante, è comodissima e a lei piace tantissimo. Visto che devo mostrarvi un bel po' di cosine super cute e molto varie, io direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di iniziare subito con il video. Quanto mi mancava questa postazione video haul! Partiamo dall'abbigliamento, il primo negozio in cui sono stata è C&A e voi non ci crederete ma ho acquistato anche delle cose per Angus, per cui di solito non compro quasi nulla, quindi sono molto contenta di questa cosa perché almeno potrò variare un pochino anche i suoi outfit nei vari video. Alcune cose erano in saldo, altre no, comunque adesso vi spiego tutto, ma questo sarà un haul che vi stupirà, ne sono certa. Allora, ho preso ad Angus, come vi dicevo, questo pagliaccetto che mi piace tantissimo, è molto semplice con tutti gli elefantini, però allo stesso tempo è molto molto cute e posso utilizzarlo sia come pigiamino che come outfit da giorno. Ho preso la taglia 2-3 mesi che corrisponde a 62 cm e l'ho pagato 6,90€. Qui vicino al collo ha anche il bottoncino che si può aprire per metterlo con facilità e sotto ci sono i bottoni per il cambio. Sempre da CA e sempre per Angus, lo so è pazzesco, non ci credevo nemmeno io, ho preso questi pantaloncini corti che mi piacciono tantissimo, questo è un pack da due, il primo paio è questo, carinissimo con tutte le righe e qui anche i cordini per stringerlo, è di questo colore davvero molto carino, mentre invece l'altro pantaloncino è così, semplicissimo, grigio melange, anche questo molto carino e soprattutto molto abbinabile, sapete che per Angus avevo solo un paio di pantaloncini corti praticamente, quindi sono stata molto contenta di trovargli questi. Sono sempre tagli a 2-3 mesi, 62 cm e li ho pagati 7,90€, sì anche questi non erano in saldo, però comunque il prezzo era buono. Poi ho fatto un ordine online su Zara e ho preso 3 cose per le toddler, anzi 4, però uno è un accessorio, quindi la vedrete alla fine del video, non vedo l'ora di mostrarvela. Comunque tutte queste cose erano in saldo. Allora ho acquistato questo golfino che mi piace tantissimo, questo secondo me è un capo jolly, nel senso che va bene con tutto, e poi è davvero molto semplice ma allo stesso tempo cute, guardate questa lavorazione sulle maniche, mi piace tantissimo, ha tipo dei volant fatti così, con tutti i dettagli, poi il golfino è molto morbido, sul davanti ha questi 3 bottoncini in legno che rendono il tutto ancora più carino, questa è taglia 6-9 mesi perché appunto è per le toddler, il prezzo originale sarebbe stato 14,95€ ma in realtà l'ho pagato 7,90€ mi sembra. Carinissimo il dettaglio sul lato con questo piccolo spacco. Poi ho preso questa magliettina rosa, super cute, l'ho scelta per una ragione ben precisa, tra poco capirete tutto. Comunque è molto carina, ha costine elasticizzata con tutti questi fiorellini, le maniche finiscono in questo modo sono carinissime e anche la parte inferiore della magliettina è fatta allo stesso modo. Questa è sempre taglia 6-9 mesi, prezzo iniziale 7,95€ pagata 5€. Questa è una mia maglietta maniche corte che ho acquistato l'anno scorso da Hollister, è a costine, ha la manica che finisce in questo modo e anche sotto ha la stessa finitura e come vedete ha tutti i fiorellini. Insomma quando ho visto questa sul sito di Zara ho dovuto assolutamente prenderla perché sembra la mia in miniatura. Sempre da Zara ho preso anche questo golfino super invernale, lo so fa stranissimo vederlo in questa stagione e anche comprarlo, facevo abbastanza ridere. Comunque è carinissimo, è proprio super 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 invernale, ha questo animaletto sul davanti, secondo me è una lontra. Tra l'altro per le toddler ho dei leggings di questo colore quindi sarà molto facile anche abbinarlo. Questo ha il cartellino con il saldo indicato per fortuna perché non ricordavo l'esatto prezzo, l'ho pagato 9,95€ mentre originariamente sarebbe stato intorno ai 18-19€. Comunque sempre taglia 6-9 mesi. Sono contentissima di averlo trovato perché era almeno da un anno che volevo prendere uno di questi golfini super pesanti, però solitamente costano tanto e quindi sono stata felicissima di trovarne uno nei saldi. Cioè ma voi ve le immaginate Matilde Martina in questo golfino super morbido e super invernale? Passiamo ora ad H&M. Ho fatto sia un ordine online che una spedizione in negozio. Online ho acquistato questo vestitino semplicissimo che però mi è piaciuto tanto. È molto estivo ma ha questo colore che è davvero molto cute e poi trovo che alle toddler stia davvero benissimo. Questo è taglia 74 che corrisponde al 6-9 mesi. Vi faccio vedere meglio la parte inferiore. Ha questa balza super carina. Questo l'ho pagato 4,90€ a prezzo pieno quindi davvero un ottimo prezzo però mi sembra di ricordare che sia esclusivo web quindi lo trovate soltanto online. In negozio invece ho acquistato due capi in saldo. Questo che non vedete molto bene è un capo super neutro che mi è piaciuto tantissimo. Ha un tessuto meraviglioso. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Ecco qui. Si tratta di un pagliaccetto con scolla V, maniche corte e gamba corta. Ha il doppio petto fatto in questo modo. Mi piace davvero tantissimo perché si chiude con i bottoncini ma anche con questo laccetto. Questa è della linea Organic Cotton. Il prezzo originale sarebbe stato 12,99€ e l'ho pagato 4,99€ e ho preso la taglia 56cm 1-2 mesi. E infine ho preso un altro outfit per Angus. Super carino. Allora si compone di questa magliettina a maniche corte con tutte le righe. La manica finisce così con il risvoltino e poi la magliettina è molto accollata e ha i due bottoncini laterali. Qui ha anche la tasca con questa etichettina con la barca che è davvero carinissima. E poi il set include questi leggings color senape. Sapete quanto io amo il senape. Questi sono leggings lunghi, leggeri e mi servivano proprio per Angus perché per lui avevo un paio di pantaloni lunghi, forse due, comunque davvero pochi. Questi sono super abbinabili anche con magliettine a maniche lunghe che ho. Quindi sono davvero contenta. Hanno la banda elasticizzata in vita così sono abbastanza stretti e gli vanno bene perché lui è piuttosto magrolino. Non vi dico neanche quanto mi piaccia questo accostamento righe blu e pantaloni senape perché penso che lo sappiate già. Non so cosa vi avessi detto prima, comunque questo outfit non era in saldo. Comunque l'ho pagato 9,99€ che mi sembrava un prezzo onesto e ho preso sempre taglia 62 cm 2-4 mesi. Ed ora passiamo agli accessori. Sono stata da Baby Boom che è il negozio dell'usato di cui vi parlo sempre. Comunque se non sapete di cosa sto parlando vi lascio nell'info box il link diretto al sito. Ho acquistato questa copertina bellissima in cotone. È di questo rosa che mi piace tanto e poi ha una lavorazione davvero particolare e molto cute secondo me. La misura è perfetta anche per la carrozzina e penso che la vedrete spesso nei video estivi e primaverili perché non ho molte copertine in cotone. Questa è di H&M e da Baby Boom l'ho pagata mi sembra intorno ai 6€. E adesso vi mostro una cosa che sono stata felicissima di aver trovato in saldo e che so che a moltissimi di voi piacerà. Tadam! Scarpine di Dumbo! Se avete visto il video in cui sceglievo un paio di scarpine primaverili per Martina principalmente vi ricorderete anche di queste perché erano una delle scelte possibili. Poi erano meno abbinabili di quelle che ho scelto e costavano anche di più dunque la mia scelta è ricaduta su un altro paio all'epoca. Ma quando le ho trovate in saldo non ho potuto fare a meno di acquistarle. Queste le ho trovate sul sito di Zara più o meno all'inizio dei saldi. Sono una collaborazione con Disney, ho trovato il numero 18 e il prezzo iniziale sarebbe stato 21,95€ mentre io le ho pagate 12,90€. Queste scarpine mi ricordano un po' le Vans, forse per la suola fatta in questo modo. Comunque sono bellissime, guardate anche il retro con scritto Dumbo e poi qui c'è appunto Dumbo per tutta la scarpina. Qui hanno le stringhe che sono stringhe vere assolutamente regolabili e anche l'interno è bellissimo. Sempre per quanto riguarda gli accessori, da C&A ho preso un paio di calzamaglia. Questa è la taglia 44,50€. Sono bianche semplicissime e le utilizzerò anche come calzamaglia di protezione. Prezzo iniziale 5€, le ho pagate qualcosa più di 2,50€ mi sembra. In un negozio che si chiama Tacco invece ho acquistato questo cerchietto carinissimo color jeans con tutti i brillantini e questo fiocco per Matilde. Infatti la taglia è perfetta per lei e i cerchietti le stanno davvero benissimo con i suoi nuovi capelli. Tra l'altro lei ha una forma della testa molto tonda per cui i cerchietti le vanno bene, molto meglio che a Martina. Comunque questo l'ho pagato 2,99€. E sempre per quanto riguarda i capelli delle toddler, ultimamente mi piace sperimentare con qualche pettinatura cute come codini, treccine, cose del genere. E quindi ho acquistato anche questi codini carinissimi con tutte le apette. In realtà l'ape è la stessa, però il colore cambia e quindi sembrano sempre codini diversi. Guardate che carini. I colori mi piacciono tantissimo. Questi li ho presi in un negozio vicino a me e li ho pagati 1,50€ mi sembra. Ho preso anche queste due mollettine con gli elefantini. Queste sono molto carine, hanno dei colori più neutri e mi piacciono tantissimo. Vi faccio vedere che le mollettine sono anche ricoperte, quindi perfette per le toddler. E guardate questi elefantini quanto sono dolci, i dettagli sono stupendi. Questa confezione da due mollettine l'ho pagata 1,50€. E poi ho preso anche questi che sono i classici fiocchi che utilizzo sempre per Martina. Il colore mi è piaciuto davvero tantissimo. Sono fatti così con la clip in metallo, questi li ho pagati 0,99€. Mi stavo quasi dimenticando di farvi vedere questi presi sempre nello stesso posto. Sono dei semplici fermagli, fatti così metallici. Li utilizzerò per attaccare dei fiocchetti fatti a mano, come ad esempio questi che vedete qui. In un negozio che si chiama Filo di Arianna invece ho acquistato questi animaletti carinissimi. Guardate quanto sono adorabili. C'è anche la pecorella qui che è super tenera. Questi si possono utilizzare anche come bottoni decorativi, ma io li utilizzerò per realizzare dei codini originali per Martina e Matilde. Infatti ho acquistato questo elastico beige molto neutro con cui realizzerò appunto l'elastico per i capelli e a cui fisserò questi animaletti carinissimi. Quindi insomma saranno dei codini fai da te molto originali. Ultima cosa che vi mostro in questo video haul è questo biberon della New Era. Si presenta così ed è davvero stupendo anche perché ha il corpo interamente in silicone. Questo non l'ho acquistato ma mi è stato inviato con una collaborazione e ve l'ho mostrato più nel dettaglio nella morning routine estiva di Angus che se non avete visto vi lascio qui nelle schede. Questi erano tutti i nostri acquisti dell'ultimo periodo. Io spero tantissimo che vi siano piaciuti. Fatemi sapere giù nei commenti qual è stato il capo o l'accessorio che avete preferito tra tutti. Se questo video vi è piaciuto per favore lasciate un bel pollice in su anche per supportare il mio canale in generale. Condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto!